Ecco, siamo sul Monte Catria, questa è la nuova via che porta su in quota. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Siamo quasi arrivati alla cima, la pista arriva tra il Monte Catria e il Monte Apurdo. Ecco, qui passa proprio qui sotto. Ecco, qui siamo sulle piste. Qui di fronte abbiamo il Monte Acuto, questa è la pista. Ecco, poi vediamo da quest'altra parte invece c'è il Monte Catria, ecco vediamo la punta del Monte Catria. Ciao! Ecco, siamo sulle piste. Vediamo questa è la qualità. Ciao! 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 Ciao!